Questo è il viso dell'uomo che traghetterà la Cina nei prossimi dieci anni. È il viso del 59enne Xi Jinping, nuovo segretario del Partito Comunista Cinese, e che da marzo sarà presidente della Repubblica Popolare. Come il suo predecessore, Hu Jintao, egli è espressione dell'apparato di cui ha scalato tutte le tappe previste nella sua ambiziosa carriera politica, ma al tempo stesso è uno dei principi rossi, uno dei figli degli eroi della rivoluzione, ha viaggiato molto ed è amico del vicepresidente americano Joe Biden. Per questo alcuni analisti ritengono che sarà l'uomo delle riforme della Cina del terzo millennio. L'americano Sidney Rittenberg era il traduttore di Mao Zedong. È uno dei pochi stranieri che hanno potuto osservare da vicino i padri della rivoluzione. La mia impressione su Xi Jinping è abbastanza positiva. In primo luogo perché conoscevo suo padre molto bene. A mio parere era un'ottima persona, probabilmente il più democratico della vecchia leadership del partito. Il padre di Xi Jinping tuttavia cade in disgrazia alla vigilia della rivoluzione culturale. Viene imprigionato mentre il figlio viene mandato in campagna per la rieducazione. Xi Jinping vivrà lavorando duramente nei campi, in una modesta abitazione troglodita, nella provincia dello Shanxi per sette anni. Dopo nove rifiuti, nel 1974, riesce a fare ingresso nel Partito Comunista. L'anno dopo entra nella prestigiosa università Tsinghua di Pechino, dove aveva studiato anche Hu Xintao. Arrivano poi la laurea in chimica e la riabilitazione del padre. Xi diventa segretario del Partito Comunista nell'Uccesian, provincia della costa orientale, punta di diamante del miracolo economico cinese. È un leader incorruttibile, questo lo aiuterà a superare i vari ostacoli che si presenteranno in questa fase di riforma economica in Cina. Mi riferisco ad esempio all'ostruzionismo causato dagli interessi di parte. Per la comunità internazionale, Xi Jinping rappresenta ancora un enigma. Un politico che nel 2009, durante un viaggio in Messico, pronunciò le seguenti parole. Ci sono alcuni stranieri annoiati, con lo stomaco pieno, che non hanno niente di meglio da fare che puntare il dito contro il nostro paese. In primo luogo la Cina non esporta la rivoluzione, secondariamente la Cina non esporta fame e povertà, in terzo luogo la Cina non è fonte di mal di pancia per alcuno. Cosa si vuole di più? Questo è anche l'uomo che vorrebbe più libero mercato in Cina, ha sposato una cantante molto famosa nel paese e fa studiare la figlia a Harvard sotto falso nome.